che curioso che non ti interessa niente, vero? sì deve curiosare in giro è un po' disinteressato beh ma con così tanti ortori te lo compri coi grattini eh? se lui adesso sta esaminando ziva e drusilla eh beh ovvio aspetta magari preferisci il pesce preferisci il merluzzo ah ah quelli di bruca eh? il merluzzo ci piace quelli di bruca il merluzzo ci piace apprezza ok finito questo se vuoi per te ah 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 quelli li se li ha spalpugnati tutti eh? ma quelli sono premieti in realtà bravissimo che si calda un pochino merluzzo merluzzo